Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizio la mia giornata con una torta squisita. Ho preparato un banana bread semplicissimo e molto molto veloce e dato che me l'avreste chiesto sicuramente in tantissimi, io ho giocato un po' d'anticipo e ho registrato tutto il procedimento. Quindi iniziamo subito. Ho messo in una grossa ciotola della farina integrale, vado ad aggiungere l'olio, il lievito, aggiungo le banane schiacciate, il miele, l'uvetta e inizio a mettere il latte. Lo andrò a mettere in due volte. Tutti gli ingredienti, tutte le dosi, le trovate scritte nella descrizione. Quindi finisco ad aggiungere il latte, mescolo bene e posso mettere in uno stampo coperto di carta forno. A questo punto non ci rimane che infornare a 180 gradi per circa 30-40 minuti. Fitvia mi ha inviato il nuovo set, guardate che carino, a forma di limone in silicone, molto molto simpatico e abbinata c'era anche la tazzona nuova. Quindi ho approfittato e l'ho subito provato facendo il solito tropical freddo. Quindi come sempre, quando vado a fare il tè freddo, vado a scaldare un po' di acqua, non ne metto troppa, in un pentolino, metto il tè in infusione e poi lascio raffreddare. Se ne devo fare tanto, scaldo poca acqua e poi aggiungo direttamente l'acqua fredda. In questo modo accorcio un po' i tempi di raffreddamento. E come sempre trovate scritto il codice sconto che trovate anche nella descrizione. Et voilà! La mia colazione è pronta, super energetica. Iniziare la giornata con il banana bread, secondo me è un regalo meraviglioso che possiamo farci perché è un dolce molto buono, sano e davvero nutriente. Per pranzo ho voluto provare una ricetta diversa dal solito, ovvero gli ignudi agli spinaci. Sono una sorta di mega gnocchi con spinaci e ricotta tipici della Toscana. Sono molto semplici da preparare. Io ho semplicemente sbollentato degli spinaci e spezzettati. Li vado a mettere in una ciotola. Aggiungo la ricotta, un uovo, del parmigiano, aggiungo un po' di farina e un pizzico di sale. E a questo punto inizio a mescolare. Ora la pastella che mi è venuta fuori la vado a pallottolare e impanare letteralmente nella farina. Allora, devo dire che esteticamente non mi sono venuti molto belli. Anzi, per niente. Però devo dire che il sapore era buonissimo. Io però chiedo aiuto a voi se avete una ricetta migliore per farli venire un po' più sodi. Vi prego datemela perché erano difficilissimi da tenere in mano. Infatti, vedete, poi nella padella mi si sono un po' spappinati. Comunque, io li ho semplicemente sbollentati in acqua e poi ripassati in padella con un po' di salvia. Come vi dicevo, alla fine il sapore era squisito, erano davvero buonissimi. però esteticamente non mi hanno convinto molto. Quindi aspetto le vostre ricette e aspetto i vostri consigli. Per merenda ho deciso di farmi una bella scorpacciata di anguria. Dato che tra un po' finirà la stagione dell'anguria approfitto e mi mangio uno dei miei frutti preferiti. Amo l'anguria, davvero mi piace tantissimo. E qua ne ho mangiata davvero davvero tanta. Poi devo dire che è uno di quei frutti così ricchi d'acqua che in realtà ti va anche ad idratare parecchio. Quindi è perfetta per l'estate. Siamo arrivati alla cena e oggi per cena ho fatto qualcosa di leggero e molto gustoso. Ho preparato un plum cake alle zucchine semplicissimo. Poi vi farò vedere come l'ho preparato. È venuto morbido morbido all'interno leggermente umido e mi è piaciuto davvero tanto. Una ricetta improvvisata ma è venuta molto bene che poi ho accompagnato con un pochino di pomodorini serviti semplicemente da un filo d'aceto e un po' di ricotta. Oggi ricotta sia a pranzo che a cena ma devo dire che mi piace molto quindi ben venga la ricotta. Allora per quanto riguarda il plum cake anche in questo caso la ricetta è semplicissima. Sono partita dalle zucchine tritate a julienne vado ad aggiungere a questo punto le uova un pochino di formaggio grattugiato e inizio a mescolare bene. Aggiungo la farina un pochino di latte completo con la farina e il latte quindi li vado ad alternare come sempre. Aggiungo un pochino di sale per insaporire del pepe l'olio d'oliva che non può mai mancare e un pochino di basilico. Mescoliamo bene e aggiungiamo il lievito. il lievito diciamo quello per dolci ma cercate di utilizzare non quello vanigliato. A questo punto possiamo mettere tutto quanto nello stampo anche in questo caso coperto da carta forno e cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti 30 minuti quando sarà cotto vi accorgerete facendo la prova a stecchino se lo stecchino esce pulito potete toglierlo. Ed ecco qua il risultato un plum cake davvero morbido morbido molto gustoso perché all'interno rimane come vi dicevo leggermente umidino quindi non è troppo secco ed è davvero molto gustoso da mangiare. Completo la cena quindi con l'insalatina di pomodori questi sono i pomodori del nostro orto come vedete infatti sono non perfetti come quelli che trovate al supermercato però sono i nostri e sono biologici quindi sono spettacolari. Ed ecco qua la mia cena semplice ma al tempo stesso nutriente gustosa è pronta come vedete ci vuole davvero poco in realtà per creare qualcosa di diverso dal solito diversa dalle solite cene che magari poi diventano anche un po' noiose. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto se è così come sempre mettete un bel mi piace così ne arriveranno tanti altri io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima Ciao! Grazie! Grazie!